That's how it is and that's how it goes Good? Figlio di una cagna bastarda Ah, Godo! Ma guarda quanto Godo, stronzo! No, 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 no Ma io scherzavo anni Ma scherzavo, porco Vediamo cosa riusciamo a combinare Non ho neanche saltato, sono morto Vai, guardalo come salta Guardalo come salta, non lo vede Porco 2, come cazzo citi? Mio Dio, no, non sta citando Sono un team No! ma no ma che rompi i coglioni però non vale così palle o le qui c'è un gengar un gengar un gengar porco 2 ti mangio la mamma ti mangio la mamma che diventa blu con la cucina dai ti prego portare video siamo morti tutti e due ma sei serio guarda il diamantino che buca tutta roba ok dai tranquillo ok uno è morto dai tra che palle però ma che come io potrò mai fare un video normale tipo da finirci nel fuoco in maniera brutale porco e volevi scappare mi ha impiazzato la fns bene sei esploso brutalmente che palle però no no grazie per avermi ucciso uno spawn troia io li voglio portare ok no l'avevo ucciso ma no ma sei uno stronzo ma che palle che sei ma di cosa no 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 ma un team ma che palle ma dio cancro porco sapere che ci sono ben trattato il canale oggi sono in toni t5 ancora lì ce l'ho tutto turbulence sì sono su toni t5 perché dici ne bezzagliano ok perfetto è partito il match essendo un esploso stronzo non so perché va dovevo allora mio dio ragazzi come avete visto da dai precedenti video insomma dai cosi dai dalle clip iniziali è stato un po un disastro questa giornata per registrare gli sg perché di sì è stato veramente un inferno ragazzi allora io ieri insomma domenica sono andato in piscina con un amico abbiamo cazzeggiato tutto il giorno e mi sono leggermente stanco no sono morto faccio hitler ma che ma che cazzo perché mio dio allora sono sì sono stanchissimo perché abbiamo cazzeggiato tutto il giorno tutto il giorno andare avanti indietro per le pc per la per le la piscina lì è stato veramente un massacro celebrale anche perché mi sono leggermente ustionato la spalla e sia un inferno giuro mi sono ustionato alle spalle sono che un con nero comunque bobar non che in qualcosa incontrato con tre neri anzi mi stanno tanto simpatici però sì giuro sono 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 sembra un che babbaro ambulante giuro e mi hanno fottuto il cestrut si stronzi come hanno fatto a venire prima di me come la sita silate evidentemente qualcuno ti ha detto che questo cestrut è mio è così non è così tu vedi la bene io vado porco 2 ma c'è non anche di qui ma che cazzo è ma dopo che ho fatto il video qui continuano a trovare gente ma sembra stato zitto facevo un video per i cazzi miei buongiorno guarda c'è c'è uno la giorno salve fa un culo i team fa un culo stronzi vi ho distrutti tutti e due vi sta bene stronzi stronzi ok scusate il rage moment però era di obbligo erano abbastanza tardi questo è vero erano molto molto tardi però boh meglio per me bene allora niente ragazzi in questo video si ormai ho buttato a minchi e commentari in questo video vi deve vi devo parlare un po delle nuove serie che mente di portare allora nuove serie ovvero come in serie minecraft normale la super smash mobs ok super smash mobs super smash mobs non so se sia andato qui il tizio proviamo a vedere no non era andato qui però vabbè non è che ci fosse un gran che di roba però vabbè allora super smash mobs come serie di minecraft normale e penso la porterò un po con iro anche dato che è lui che mi ha fatti conoscere più che altro quelli grazie a seguito grazie io ti voglio bene e poi porterò a continuare la serie in multiplayer in detettate non mi viene il nome in minigames appunto con marco perché lui ha avuto gli esami di terza media perciò non aveva tanto tempo per giocare però ora gli affiniti e niente dovremmo riuscire a portare appunto gli esseri insieme comunque troverete il suo canale in descrizione perché dovrebbe iniziare a fare video ora ha un po di problemi con i programmi per registrare però insomma ha ufficialmente aperto il canale perciò vi invito di andare sotto in descrizione a passarci e iscrivervi magari perché di sì e comunque poi come altre serie si intanto volevo portarvi anche una serie sui fair recordings ok suoni strani a casa mia ok niente volevo portare una serie sui fair recordings perché dato che continuo a filare appunto le registrazioni sarebbe una serie perfetta da portare nel canale ok madonna mia non sento più nulla giuro a un certo punto sento la porta di casa mia a sbattere e ho preso spavento boh allora vediamo un po' che sono le 3 e 5 non c'è tranquillo allora siamo in sette ancora tanti un po' comunque se volevo portare appunto questa serie fair recordings che potrebbe farvi ridere dato che io quando divento incazzato tiro di quelle cose molto simpatiche perciò boh potrebbe essere divertente boh non so ditemi voi se vi può far piacere comunque 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 come altre attenzione meglio che voglio fare il mio cazzato perché segniamo così ora oltre per recordings volevo portare sì per esempio il cosi il sì i cosi i i fani montage il fani montage lo porterò a breve insomma quando riuscirò perché io ancora insomma perché io devo non so il fani montage lo porterò a breve perché insomma bisogna che ci sia la disponibilità mia e degli altri miei amici che si divertiranno a fare con me questo cazzo di video tipo nico tastiera rotta insomma io lì ci capiamo boh poterò se lo porterò anche con marco con hero non so farò tutte e tre con tutte e tre non lo so una volta l'altra con l'altra boh devo vedere tutto ancora comunque vi ringrazio tanto un sacco perché stiamo salendo parecchi ultimamente vediamo qui una cesta con un un di fondamenti carino tipo attenzione attenzione e volo mio dio proprio 10 10 basta tuffo carpiato buono allora sì appunto porterò il fannimonte già breve e boh altre serie non lo so queste sono un po' le serie che vi volevo dire che porterò breve e niente vediamo un po' ora qui sì ho finito la parte del commentary spero allora vi ho parlato delle nuove serie il canale di marco poi boh vi ho detto un po' sì tutto vi ho detto alla fine poi in caso ve lo dirò in un prossimo video anzi porco co voglia no 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 ma tu non hai capito niente ma nulla zero no mi hanno visto no team da tre no no ma ma tu no ma ma no ma proprio nulla non hai capito io allora tu non hai capito in realtà dobbiamo fare team c'è un team da tre ma che cazzo dici ah ok sì 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 ok ok ho capito ho capito va bene allora dai scusate per il random team però cazzo capite la c'è un team da tre non posso fare a meno di far team o porto l'SG così in team oppure sono morto aia cazzo madonna scusa bro non ho fatto apposta ho buttato no non volevo fare apposta giuro man mi sbaglio ho spinto dai team oh GG vi vai via bam 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 ok sono contro il team ufficialmente cazzo Fa un culo Partita caricata Puttane Ci avete provato a uccidermi prima del DM Cani Noob Stronzi Allora Niente partita caricata alla fine Comunque è rivenuto normale Fa un po' cagare però Beh Ci ho provato Ok Che faccia di merda Con la spada in diamante anche Ma sei proprio stronzo lo sai Vabbè Video caricato Ti è stronzi Ce l'ho fatta GG GG Ubb Sì grande Bravo Oh Cristo mio Oh comunque ragazzi Il video è finito Sì finalmente ce l'ho fatta dopo Mille tentativi di registrazione Dai non ci si è portato il mio video Comunque vi invito a postare il canale di Marco Lasciando un pollice in su Un commento Se volete condividete Da Dani è tutto Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao